Solo che in un anno nel vostro ospedale seguite 750 bambini autistici, lei ha parlato anche proprio di un'emergenza sociale. Beh sì, perché è un disturbo di cui cominciamo a comprendere le reali dimensioni. Almeno un bambino su 150 presenta un disturbo allo spettro autistico, cioè l'autismo da solo ha la stessa prevalenza dell'epilessia. Se lei immagina quanti reparti in Italia di neuropsichiatria infantile sono dedicati interamente all'epilessia e quanto poco invece si fa per l'autismo? Non esiste un farmaco specifico per l'autismo però? Non esiste un farmaco per l'autismo però esistono farmaci che possono aiutarci nella gestione di alcuni problemi che i bambini autistici presentano di frequente. In particolare l'irritabilità, l'aggressività che spesso nell'adolescenza più che in altre fasce d'età compare o l'iperattività che è anche un elemento che condiziona fortemente lo sviluppo di questi bambini. Lei ha anche invitato a diffidare di cure di centri privati che non sono magari affidabili. Ma sì perché sull'autismo c'è ancora di tutto e di più, esistono terapie ipotetiche in cui si interviene con diete, con apporto alimentari particolari oppure la psicoterapia psicoanalitica ancora viene utilizzata per la cura dell'autismo o ancora interventi con gli animali, ad esempio la famosa pet therapy. Ecco, l'importante è che le famiglie sappiano correttamente che la letteratura scientifica non ha dimostrato l'efficacia di questi interventi. Poi chiaramente esiste la libertà di cura e ciascuno può scegliere di curare come meglio crede il proprio figlio. Credo che le istrutture pubbliche debbano fare una corretta informazione. Pensi che ancora fino a poco tempo fa, non so se ancora oggi, alcune asle d'Italia preschino per l'autismo la cura, la camera iperbarica ed è risaputo che questo è inutile se non addirittura dannoso. Cosa c'entra il peperoncino con l'autismo? La ringrazio perché questa è una campagna a cui abbiamo dato vita insieme all'associazione Una breccia nel muro per poter sostenere i costi di trattamenti basati sull'evidenza come l'EBA o ABBA, come viene detto più semplicemente, ci dedichiamo al fundraising, cioè alla ricerca di finanziamenti, proprio per sollevare le famiglie a dover affrontare i costi di queste terapie che sono molto costose appunto. E quindi a settembre in tutte le piazze Italia ci riuniamo e vendiamo il peperoncino e il ricavato viene destinato proprio ai progetti di Una breccia nel muro.